Compagnia di vista il mondo Grazie 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 Mi piace parlare di questo perché sembra abbastanza il lavoro della squadra che è stato ottimo. Giustamente avete bisogno anche voi di non avere la risposta della politica. Quindi vi dico che sono contento di entrambi i giocatori perché Crunch, devo già dire, che secondo me aveva già risfruttato l'anno scorso un play-off notevole mostrando una crescita importante. Si è ripresentato il tiro con grande voglia, con grande applicazione e sta dando ottimi segnali perché migliora di giorno a giorno e di partita in partita. Quindi in questo deve solo continuare a lavorare con l'unità che lo sta contraddistinguendo e con l'attenzione che sta mettendo in campo quotidianamente. Per quanto riguarda Verde non mi sono sorpreso personalmente perché lo vedo allenarsi con noi già dall'anno scorso. ma abbiamo un po' di giro perché pensiamo che possa essere un calciatore con delle qualità importanti. Quindi non deve pensare adesso lui a questo ma deve pensare solo a continuare su questa strada impegnandosi, lavorando duro perché per lui da stradare. E' ancora lunga ma i presupposti ci sono. Siamo sulla terza. Il mercato è un'evoluzione però se dovessi parlare di un percentuale. In questo momento non mi piace dare una percentuale perché prendo sempre con le pinze e con le volte il calcio in agosto. perché è un calcio dove secondo me è falsato ancora da quella che è la condizione precaria di molti calciatori. Quindi quello che cerco di guardare è la disponibilità, l'impegno, la volontà, gli automatismi che iniziano a venire, le qualità dei giocatori. Quindi su tutte le qualità di questo momento i ragazzi stanno mettendo in campo e in pratica davvero giornalmente. Quindi sono soddisfatto di questo atteggiamento che sarà quello che ci dovrà falcare per tutta la stagione perché sapremo che una certezza ce l'abbiamo che è quella che vogliamo lavorare meglio negli altri.